Cazzo me l'hanno tolte no ragazzi incredibile ma io perchè mi mangio questi gol vai fai questo però Ciao a tutti ragazzi qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su Rocket League Siamo ritornati per fare nuove partite incredibili Allora vorrei giocare questa volta ragazzi un po' la modalità insomma classica con le porte eccetera Dato che negli ultimi video ho portato il canestro che è stato veramente epico però giochiamo anche adesso di nuovo con le porte Allora io andrei su doppio si ragazzi perchè 3 contro 3 4 contro 4 sono troppo incasinati Poi mi sono abituato con la modalità insomma del canestro dove eravamo per forza 2 contro 2 E secondo me è la migliore cosa perchè ce la possiamo gestire un po' di più quindi partiamo subito Ovviamente fatemi sapere se volete altri video su Rocket League Ovviamente poi magari vi riporterò la modalità del basket che comunque è una ragazzi delle mie preferite Non so quale mi piace di più se le porte normali oppure il canestro qui in questo gioco Perchè veramente è troppo bello Ok ci siamo ma ragazzi siamo in un campo siamo in un campo in cui io non ho mai giocato Veramente questo qui è nuovo Ragazzi non ho idea boh io mai no merda hanno già tirato in porta Vai compagno quello era fermo lì incredibile ha salvato tutto Ragazzi veramente io non ho mai giocato in questo campo qui non l'avevo tra l'altro mai visto subito il colpo In porta ma niente da fare vai compagno Attenzione no se fossi stato un po' più a sinistra recupera subito Oh merda oh merda andiamo 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 Ragazzi va ho spinto quello recuperiamo un po' Vediamo il colpo da questa parte grandissimo Ma il mio compagno sembra un super pro Poi magari è un fail totale non lo so Vediamo un po' con la data No perchè ha dato il tocco mi ha superato proprio nel momento Nel momento giusto E' il momento attenzione boom No Com'è possibile che non è andato in porta Com'è possibile ragazzi vai vai in porta vai in porta Occhio segnato Ragazzi come avevo fatto prima a non fare gol Doveva entrare direttamente invece no Però alla fine me la sono gestita bene E abbiamo segnato lo stesso con il doppio salto Cos'epiche Vai primo gol per noi Xdexta ha segnato epico Allora vediamo un po' Comunque il campo dovrebbe essere tipo nel deserto Almeno o in qualcosa di distrutto Cioè questo è quello che sembra Attenzione no Perchè ci hanno segnato così Perchè ci hanno segnato così Ho fatto il gol epico E qui ci hanno segnato dal null Cioè con il primo colpo E vabbè Devo partire subito col turbo allora 3 2 1 Ripartiamo subito col turbo Il salto Vai 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 Qualcuno gliela ha tolta lì Effettivamente non c'è l'inizio classico No perchè non l'ho presa Mamma mia Qui ragazzi non c'è l'inizio classico Con la palla in alto che rimbalza Non so perchè Andiamo Vai palla Vai vai col turbo Andiamo avanti Andiamo avanti Vai fatela arrivare da quella parte Vai 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 Fatela arrivare da questa parte No merda non così Non così Fermiamola Ragazzi ho dato un piccolo tocco Turbo 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 Il salto Vai Quello non l'ha presa Recuperiamo Ok la palla sta tornando Vai 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 Che sta tornando Andiamo ragazzi col super turbo No c'era quello davanti Il bastardo Andiamo Oh merda Oh merda L'autogol no L'autogol no Vai l'ho salvato all'ultimo Mamma mia Salvato all'ultimo Andiamo Cazzo L'ha spinta indietro Dai 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 Super colpo Ok ok Dai che sta andando Nella loro parte A me però mi serve un po' di turbo Ok il mio compagno è segnato Beh complimenti Complimenti a lui ragazzi Siamo veramente un'ottima squadra Per il momento Vai ripartiamo col turbo Estremo 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 Ok ok Dai dai Il gol Il gol subito No Recupera 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 Boom Vai l'ho tolta Recuperiamo ancora Andiamo ragazzi a sinistra Vai vai in fondo Vai in fondo Grandissimo il compagno Prendi il turbo Vai che al momento giusto Andremo Al momento No cazzo Quello l'ha tolta Ero pronto con tutto il turbo Ad andare lì A devastare qualsiasi cosa Vai l'ho fermata Andiamo ragazzi Controlliamo un po' il tutto Fai il giro Vai perfetto Quello l'abbiamo fottuto Cioè noi facciamo i dribbling Qui su Rocket League Grandissimo colpo del mio compagno Andiamo Potenza estreme Il salto No Non l'ho colpita C'è un'occasione Qui il colpo Abbiamo dato il colpo in due Mamma mia Ultimo minuto è rimasto Ultimo minuto è rimasto Vai vai col turbo adesso Il salto ragazzi No come ho fatto Come ho fatto Come ho fatto a mancare la palla La mia auto ha fatto un cambio improvviso Di direzione Non lo so Andiamo Ragazzi me l'hanno tolta No ragazzi Incredibile Perché mi mangio questi gol Vai fai questo però E ce l'abbiamo ragazzi X dexta Ha segnato I tiri semplici Li sbaglio Quelli più complicati Li indovino Veramente assurdo Comunque sia Doppietta 3 a 1 Ormai la partita Credo sia nostra Perché mancano 36 secondi E se riparte Andiamo col turbo Non facciamoci fregare Mi raccomando Il super salto Andiamo ragazzi Il colpo No perché Perché 30 secondi rimasti Attenzione Attenzione Vai qui No merda L'ho mancata Completamente Gira l'auto Ok dai che ci siamo Recupera 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 Vai 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 Attenzione Stiamo un attimo calmi No ha dato il colpo Ok abbiamo vinto Vincitore a tavolino Boh non lo so Ah perché forse qualcuno Abbandonato Vabbè avremmo vinto lo stesso Cazzo 3 a 1 Mancavano pochi secondi Abbiamo sblaccato Un nuovo adesivo Nulla ragazzi Ho fatto due gol Veramente ottimo E direi di rigiocarcela Assolutamente Ok siamo in un nuovo campo Che cazzo è la mia auto Aveva un altro colore Perché Non si sa Comunque siamo in un altro campo Va benissimo 3 2 1 E si parte ragazzi Andiamo Facciamo il salto qui No no Ci hanno fregato No dai Primo gol così È assurdo Io avevo anche saltato Ma niente da fare In tutto questo Il mio compagno Non si è minimamente mosso Non so perché Andiamo andiamo Dai non facciamoci fottere Vai il colpo Ok ragazzi Questa volta Abbiamo dato il tocco Vai subito in porta Ritorna Palla Merda prendi qui il turbo Ok ce l'abbiamo Attenzione Hanno dato un colpo Vai 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 No perché l'ho mancata Vai che qui ci potrebbe essere il gol No l'ha tolta all'ultimo Saltella Niente da fare Recuperiamo Allora qui mi sa che perderemo di brutto Vediamo se Sì ragazzi Niente Avevo provato il salvataggio estremo Ma non ce l'ho fatta E si riparte Allora io non so cosa stia succedendo Vai entra in porta Ok il mio compagno finalmente ha fatto qualcosa di buono Ha fatto un tiro Un gol Buono Buon per noi Vai c'è stato il colpo Andiamo in porta Andiamo in porta Andiamo in porta No il palo Perché Via 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 dalla nostra porta Ok ci siamo un po' salvati Andiamo Il mio compagno ha fatto un liscio clamoroso E ci siamo presi ovviamente l'altro gol E infatti ragazzi Boh non lo so niente Qui perderemo per forza Per forza C'è stato un rimbalzo Guardate il mio Ma il mio allieato che cazzo fa La tira La tira direttamente Abbiamo No ragazzi assurdo Assurdo Hanno segnato di nuovo Da non credere Guardate il mio compagno Che cazzo ha fatto Non si sa Non si sa Io stavo arrivando Niente da fare Vabbè ragazzi Comunque sia La prima l'abbiamo vinta Questo è l'importante Che perdiamo ci sta Anche se brutalmente Niente Mi è capitato uno Che boh Non sa giocare Non che io sia un pro di Rocket League Assolutamente Però cazzo Il mio compagno Veramente È da eliminare Dalla partita Assolutamente Cioè fa cose troppo assurde Ecco Ho dato il tocco da quella parte Vai Vediamo di fare almeno Un piccolo gol Così di consolazione Se ci riesco Vai dentro la porta Dentro la porta Dai dai Ce l'ho fatta ragazzi Almeno un gol Di consolazione L'ho fatto cazzo Almeno questo 30 secondi rimasti Vediamo un po' se scende Attenzione Vai il super tocco Vai che se ne va No mamma mia Mancava Mancava poco Dove essere Un po' più angolato ragazzi Vai Niente da fare qui C'è stato il liscio Clamoroso Vai 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 in porta Fai almeno un gol Ok ragazzi Ce l'ha fatto Incredibile Vabbè che gli altri L'hanno messa dentro Comunque sia 7 a 3 Si riparte Mancano 10 secondi Ormai la partita è persa Per forza Qui c'è stato il massacro Il massacro di spinte Pochi secondi per noi Difendiamo almeno Quest'ultima parte Vai c'è stato L'ultimo tocco Da parte mia E niente ragazzi Una l'abbiamo persa Una l'abbiamo vinta Comunque sia Anche qui abbiamo fatto Un gol Non male Ritorniamo al menu principale Ragazzi che dire Spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo giocato un po' A Rocket League È un gioco che a me piace Tantissimo E nulla Magari nei prossimi episodi Vi riporterò il basket Oppure se c'è Qualche altra modalità Insomma particolare O magari il 4 contro 4 Non lo so Vedremo un po' Spero che il video vi sia piaciuto Lasciuto un mi piace E ci vediamo al prossimo video